ciao a tutti ragazzi buona giorgia a tutti i giorgi e buon match a tutti ragazzi non era tutti gli altri ragazzi non si ricorda la intro bello che ho fatto il video ciao ragazzi buona giorgia a tutti gli altri eccoci qui finalmente ragazzi ce l'avete chiesto mebbia dove siamo io a casa mia tu non lo so da cyber a è una custom map credo ve la faccio vedere pieno pieno col mouse papà siamo nello diversi ragazzuoli non voglio io bimbo triste siccome è tutto in inglese leggerai tu ok allora leggerci il libro ma il no il libro non esiste allora reading is for champs weed allora questa è la diversity completa completa i vari livelli e come per collezionare la lana attenzione traveling to and from ab praticamente quando viene teletrasportato da una parte all'altra gli inventari vengono completamente svuotate va bene gira il comando dei common block su on and not read me vabbè questo non c'entra niente allora le regole non rompere o piazzare oggetti inutili poi non cambiare la difficoltà o la game mode non ti pare e se sei in single player non ci serve non ti interessa ok alti non è come luminosità piena resource pack default nuvole off allora aspetta che vediamo subito render di instance lungo lo metto a 16 perfetto fatto fatto queste cose le ho fatte tutte allora nebbiuccio qua penso che dobbiamo mettere la lana si la lana che non allora abbiamo deciso qua come vedete abbiamo introduzione vabbè ovviamente non c'è lui ci sta entrando l'introduzione però non si muove allora abbiamo adventure arena aia trivia parkour che è la moto di nebbia no ragazzi vi prego ve la faccio godere al massimo ma lasciatecela per ultima vi prego con gli altri vi faccio divertire di più ma la parkour potrei bestemmiare i santi tutti quelli che conosco e anche quelli che non conosco quindi se mi volete bene almeno un po' lasciatemela per ultima vi giuro che le altre ve le faccio tutte al 200% poi escape labirintian dropper survival puzzle e boss battle allora boss battle è quella che mi preoccupa di me allora abbiamo deciso come piuccio di far decidere a voi tra l'altro peppe ho dovuto fare inventario perché mi stava a premie per fare inventario e mi dava premie per forza per fare inventario allora no perché ti rimane la cosa della cismente mi da parecchio sulle scatole allora in pratica ragazzi abbiamo deciso di far decidere a voi ogni volta vi daremo per cercheremo di farlo uscire ogni quattro giorni miiii ogni quattro giorni allora cosa succede in questi quattro giorni noi vi diamo la possibilità ah no no sentite oh vi diamo questo grande onore peppe sei un cretino ci dovete commentare e dire quello che volete dopo esattamente e noi poi a seconda di quello che riceverà più commenti faremo ragazzi sappiate che se riceverà più commenti la parkour noi lo skipperemo bellamente sappiatelo io ve lo dico votate parkour no ragazzi io la parkour all'inizio io la parkour la faccio alla fine ve lo dico quindi perché poi mi voglio giocare il resto del gioco divertendomi allora io inizierei oggi perché mi ispira al labirintian tu che ne dici ah pensavo pensavo con la parkour no labirintian io inizierei con la trivia che così con le domande ce le leviamo dalle scatole no labirintian non mi va di fare domande e non mi va di fare i labirinti dai labirinti eh vabbè puzzle dropper escape trivia qua labirintian labirintian minchia è pure viola ma che brutta oh a me piace il viola quello mi sa che non ci sono i command block tu lo sai che posso andare a chiamare un listo di gran fretto vero eeeh bene ragazzi se il video vi è piaciuto ahahahahah mettete mi piace aspetta un attimo aspetta un attimo no 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 se il video non vi è piaciuto mettete mi piace no ma che vuoi a chiudere aspetta no 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 vai 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 ricordatevi di no 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 se la dobbiamo incominciare l'abbiamo cominciata con un fail e la facciamo con un fail no 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 ahahahahah come al solito vai ulisse non ci ha abilitato i command block quindi non è vero come al solito è che se non gliel'hai detto no ma io penso che lo sapeva vabbè comunque ricordatevi di iscrivervi al canale e alla pagina di facebook di ovviamente mettere sempre come sempre mi piace anche se abbiamo iniziato con un bel fail così decidete cosa vogliamo fare ragazzi ovviamente di iscriversi anche ai canali che ci sono in descrizione che oramai dovreste conoscere allo spinimento ovviamente ragazzuoli e quindi ma cos'è sta roba no non lo so non è che qua si attivano i command block prova ad andare adesso che cazzo è fatto benissimo che come al solito che come al solito trovate in descrizione non è successo niente vabbè come sempre ragazzi con questo fail è tutto è tutto quindi sono Peppe non sono nebbia quindi lo faccio una volta sola ciao a tutti ragazzi buon giorgio a tutti i giorgi e boom mi ha scelto tutti gli altri è il prossimo video un video senza fail si spera ciao ciao